good morning si qui sono diciamo le 11 siccome in questi casi non per una mattina prestissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente david lynch it's april 17 2022 and it's sunday in naples a middle morning yes i confirm very still no con un vento abbastanza forte 16 26 final 17 celsius and this means that è quella giornata era really 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 soft like these days in this period però si è c'è un vento abbastanza forte che percepire in realtà fa più freddo rispetto alla leggerizza di questo clima primaverile per quanto concena il video sui pensieri se qualcuno è interessato non so se lo faccio però se lo faccia è sempre separato da questo quindi occhio anyway asi and you all just see from the window eh sì i think that this afternoon temperature si potrebbe mantenere sullo stesso livello ma potrebbe anche scendere noi vedremo su questo ovviamente non siamo dei maghi but really important thing negative point with this atmosphere is that is that surely we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine o almeno salvo miracoli non dovremmo averli certo come dico la mia frase cat ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro but as well as we will see 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 but comunque whatever in questo caso non credo che che sarà così ehm per cui speriamo un giorno migliore domani anche se nei giorni precedenti abbiamo avuto comunque un brown trend di tre quattro giorni con those beautiful blue skies and golden sunshine per cui said this so from the mythical window with the red the orange red blue and green water curtain and it's green roller shooter behind me on the top not visible in fact any shot and finally from mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 and today also i hope you all have a great esther happy esther to everyone and also i hope you have a great breakfast magari anche con le uova di pasqua with easter eggs beautiful chocolate etc non so di other things ehm si io la solazione la farò tra poco il mio stomaco bruntola non so il vostro ehm per cui si eh il video ci vediamo il video tutti nel caso lo faccio ma non lo so o domani ciao ciao